Per celebrare i 70 anni della 2 cavalli, Citroën ha affidato a South Garage di Milano l'incarico di realizzare una moto, un esemplare unico, che ricordasse l'originalità di questa icona delle quattro ruote. Progettata nel lontano 1936 e nata per soddisfare le esigenze di una clientela prevalentemente contadina che non aveva mai posseduto un'automobile, la 2 cavalli, o déchevot, era caratterizzata per gli ampi parafanghi posteriori e dalla colorazione rouge dell'age che hanno ispirato Giuseppe Carucci nella realizzazione della Charleston. L'intento era quello di stravolgere lo stile esterno di una Triumph Bonneville utilizzata come base senza sconvolgere i suoi elementi basilari, come telaio e motore. Nella parte posteriore di questa particolare due ruote trovano spazio i parafanghi della 2 cavalli Charleston con le loro inconfondibili forme arrotondate. Inoltre è stato installato un particolare portapacchi cromato che richiama il double chevron, lo storico logo di Citroën. La sella è in pelle, così come gli inserti del serbatoio con cuciture orizzontali. A completare questo design davvero unico e inconfondibile troviamo il singolo faro con vetro giallo, la vistosa griglia centrale in lamiera bordata e l'originale paragambe, anch'esso rigorosamente nei colori nero e rouge dell'age con filettature argento. Una a 2 cavalli su due ruote.